Musica 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 Ma lo c'io prendo un foglio perché, vuol dire, non saperebbe che come reagire a quel momento, non sai che cazzo cosa fai io? Ho preso un foglio e lì ho detto bene, vado via, ho pensato a te E uno di questi fogli ho buttato la marterra e sono uscito Musica